non lo stavo guardando che c'è la festa del roseto si tratta qua vicino nell'orto l'orto botanico di pavia nasce intorno al 1700 e vanta una moltitudine di esemplari tra piappe officinali fiori cactacee e alto ancora l'orto botanico di pavia ha una collezione che si suddivide in rose selvatiche rose antiche idrici moderni altre collezioni questo tipo di rosa si trova solamente in quattro regioni italiane allora cosa state aspettando veniteci a trovare per scoprire molte altre informazioni interessanti e curiosità dal mondo delle piante grazie 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 grazie